Posso ammettere che siete veramente forti e state raggiungendo tutte le sfide con il mi piace che stiamo facendo e ci stiamo divertendo veramente tantissimo Ma attenzione perché questa volta ho una sfida veramente veramente difficile e qui mi dovrai dimostrare quanto vali Lascia subito un bel mi piace e ti lancio una sfida Mille like a questo video ed andrò a scrivere direttamente a The Rock hai capito bene al boss fondazione su Instagram per vedere se reagisce ad un mio video E in realtà ti faccio uno spoiler gli avevo già scritto una settimana fa e non ti dico più nulla Mille mi piace lascia subito un bel like adesso se stai guardando questo video Beh sì effettivamente lo stai guardando quindi lascia un bel like mille mi piace e vi lascio il video della risposta del boss fondazione nella vita reale E tutto come sempre nelle tue e nelle vostre mani lascia un mi piace Prima di cominciare con il video ci tenevo a ringraziare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale Grazie mille amici miei Lollo73 per la super chat Mi raccomando premi anche tu il tasto abbonati Scegli il livello di abbonamento che più ti piace Hai la mia richiesta vieni salutato nel prossimo video e avrai tantissimi privilegi Abbonati ora io ti aspetto in famiglia Sì 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 d'accordo come avrai letto dal titolo ti mostrerò senza perdere tempo come ottenere gratis la nuovissima skin di fondazione Anche detto derocca esattamente non ti preoccupare Ti spiegherò tutto non perdiamo altro tempo come al solito io ti invito ad iscriverti al canale Premendo il tasto rosso iscriviti mi raccomando iscriviti adesso perché è importantissimo Se no pensaci ti perderai tutti i prossimi video e le live Quindi iscriviti e controlla di avere la campanellina attiva mi raccomando su tutte le notifiche Ed adesso negozio oggetti tasto supporto creatore in basso a destra Inserisci subito Oh beh oh beh oh beh L'unico solo ed inimitabile Codice creatore joe trattino x97 tutto maiuscolo Proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me Inseriscilo adesso io sai che ti dico lo rinnovo quindi joe trattino alto x97 Perfetto facciamo accetta e siamo pronti per fare tantissime vittorie reali come al solito Finalmente ci siamo è un video che mi avete chiesto in tantissimi come ottenere la nuovissima skin di The Rock Allora parto subito col dirvi che ci sono principalmente due modi Intanto questa è la visione della skin di The Rock da lontano Perché come sapete c'è proprio una parte all'interno della mappa che è dedicata totalmente a The Rock In realtà vabbè al boss fondazione però come vedete nuovo outfit bloccato Anzi sbloccato perché bloccato non penso proprio The Rock Ed è proprio questa la skin alle mie spalle e poi vabbè abbiamo Spider-Man Red e Spider-Man Black Lascia un bel mi piace se vuoi anche un video su come ottenere gratis e velocemente le due versioni di Spider-Man Fossi te nascerei un mi piace proprio adesso Comunque come vedete le immagini che vi sto mostrando dell'outfit di The Rock sbloccato Sono in realtà delle immagini che ancora non esistono Che però l'epic potrebbe mettere tra pochissimo Infatti dovete sapere intanto vi dico velocemente due news Vabbè intanto dei regali sono bellissimi Per quanto riguarda le news sta uscendo un bellissimo torneo entro Natale Sarà un torneo bellissimo E probabilmente il Winterfest quindi le ricompense le potrà ottenere solamente chi si classificherà Nelle prime 150 posizioni in Europa di questo torneo Quindi fossi voi inserirei subito il mio codice creatore Comunque dicevamo ci sono due modi per ottenere la skin di The Rock Facciamo un breve ripiro per chi non l'avesse ancora saputo O scoperto dall'evento finale The End The Rock è in realtà il boss fondazione Tu dici come lo sai Perché primo durante l'evento finale The End fondazione si è levato la maschera E indominato un po' chi era Beh direi proprio The Rock Dwayne The Rock Johnson Esatto io mi sono gasolto tantissimo Non so te Tipo mi sono messo a urlare in line Vabbè ok Quelli sono dettagli E seconda cosa Intanto lui ha la skin del Cavaliere Nero molto molto bella The Rock Questo non lo sanno però io lo so perché sono un po' uno che indaga Ha pubblicato un selfie su Instagram E per sbaglio Alcanto al suo frigorifero Non mi chiedete perché ma aveva la maschera Il caschetto del boss fondazione All'interno del frigo Lo so Potete dirmi Gio sei un pazzo Gio cosa stai dicendo Sì ha pubblicato il selfie Aveva all'interno del frigo Accanto alle lattine Il casco del boss fondazione Vabbè The Rock Le sue cose private Lasciamo le private D'accordo Questi intanto sono Proprio degli spezzoni Dell'evento finale È arrivato il momento Guardate The Rock E The Rock Vi rendete conto Eccolo qui Praticamente lui Senza maschera Fondazione Quando ha fatto la sua comparsa fondazione All'inizio della season 6 Capitolo 2 Se non erro E già da lì si capiva O quantomeno C'era la possibilità Alcuni leakers avevano scoperto Che fondazione Poteva in qualche modo Essere collegato Al personaggio Di The Rock Il come Io non lo so Fondazione è un boss Veramente molto molto forte Ed è il boss Che controlla Proprio questa parte di mappa E abbiamo Come vi dicevo Due modi per ottenerlo Il primo È il modo Tra virgolette Classico Ossia Attualmente ancora Dovete capire Che non ci sono Delle sfide Per sbloccare The Rock Però Tra poco Verranno aggiunte Delle quest Per ottenere Direttamente La skin Di fondazione E Attraverso Un emoti integrata Integration emoticon D'accordo Un balletto integrato Ci sarà la possibilità Con questa skin Di fondazione Di levarsi il caschetto E quindi Di utilizzarla Con The Rock Quindi La prima Oh intanto Qui l'ha barricato Ehi stai Stai attento Budino Stai attento Ma come osi Come osi Barricare The Rock Infatti ti ha tutto Un botto di vita Comunque come vedete Infatti lui Ancora non ha La sembianza di The Rock È proprio The Rock Col casco Qui si vede Che è super muscoloso Infatti l'ha pure killato The foundation Quindi Il primo metodo È aspettare Sbloccare la skin Di fondazione E aggiungeranno Quest'emoticola integrata Dove ti leverai il casco Proprio come ha fatto The Rock Ok Nell'evento finale Quindi semplicissimo Ed è anche molto molto bello Secondo me Lascia un bel mi piace Se ne pensi anche tu In questa maniera Il secondo metodo Che è quello Che anche vi andrò a mostrare È un metodo Che hanno svelato Nel gruppo dei leakers Dove io sono Sapete Nel gruppo dei leakers Che scoprono Dei glitch strani Insomma E ve lo andrò a dire E a mostrare Quindi mi raccomando Guardate il video Fino alla fine Non quittate Altrimenti Se vi perdete Ancora Sono la lettera O il numero E non mi dispecio Ma non penso Funzionerà Quindi mi raccomando Questo video è solamente A scopo informativo Vi ricordo Aspettate Sbloccate la skin di fondazione Tanto Quest'emoticon integrata Dovrebbero raggiungerla Entro Due settimane circa Quindi Praticamente Tra pochissimo Dai due settimane Si possono aspettare In alternativa Se siete impazienti Ma io non c'entro proprio nulla Inserite questo codice Che vi sto dicendo Andate big games The skill based Mange making Vabbè ma che cavolo Me ne frega Dai andiamo a vedere Come sbloccare The rock Ok siamo su Fortnite Scelgo Un mio budino abbonato Quindi abbonati anche tu al canale Se vuoi essere scelto per dei video Come ad esempio Eccolo qui Acuto il ragno Perfetto Altre opzioni Sussurra E scrivete questo codice Che vi sto per mostrare Questo è il codice ufficiale D'accordo Io naturalmente Lo vado ad eliminare Perché vi ricordo di aspettare Che poi Dopo aver sbloccato Tramite le quest La skin di fondazione Tramite l'emoticon integrata Sbloccherete The rock Dopo aver fatto ciò Andate in creativa Entrate nella sezione La mia isola Abbandonate la modalità creativa Una volta tornati qui Cliccate su Seleziona modalità di gioco E selezionate Battaglia reale Una volta qui Il leaker si ha detto Che dovreste avere La vostra amata skin di The rock Ma mi raccomando Vi ripeto Aspettate Condividete il video Con tutti i vostri amici E iscrivetevi al canale Perché Altrimenti Vi perderete tutti i video E le live Ogni giorno Alle ore 18 Ti ho visto Iscriviti Ciao 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 ciao